Mamma, come stai? Cosa ti ha detto la dottoressa? Ascolta, hai ancora dolore? Ma gliel'hai detto? Perché ho scattato a mai cinque anni? E lei cosa ti ha detto? Stai. Ma scusa, quando mi ha detto che aveva dolore, cosa gli ha detto? Valla? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.